Ciao a tutti ragazzi, volevamo solo dirvi che siamo giunti già al mare e staremo qui per tutta la settimana di luglio fino alla prima di agosto cioè insomma un masetto e volevamo solo dirvi che siamo arrivati e insomma si abbiamo trovato un bel tempo, questo è molto importante insomma però non abbiamo neanche trovato neanche traffico per fortuna però volevamo solo dirvi che siamo arrivati e niente ragazzi, ah per i video di Sonic Boom che carica la Francesca, allora qui abbiamo un problema con l'antenna no? e non sappiamo se Francesca riuscirà a fare quello che riuscirà a fare nei video di Sonic Boom però state tranquilli che li caricherà e niente ragazzi, ci vediamo, ciao 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 ciao